Credi di sapere che succede? Non lo puoi immaginare, non lo puoi immaginare, non lo puoi immaginare. È un fenomeno conosciuto come déjà vu. È un fenomeno conosciuto come déjà vu. Arrivi in un luogo dove non sei mai stato, ma ti sembra familiare. Guardi in faccia un'estranea e senti che la conosci da una vita. Ci conosciamo? Sì, ci conosciamo. Il déjà vu viene considerato da molti un meccanismo mentale. Ma la verità è molto più sconvolgente. Che fareste se dovessi rivelare la cosa più importante del mondo sapendo che non ti crederebbe nessuno? Ci proverei. Doug, mi hanno appena affidato una nuova squadra investigativa e ti vorrei con me. E perché io? Diciamo che è una sfida contro il tempo. Gli hanno svelato un segreto. È un software innovativo, possiamo risalire di quattro giorni nel passato. Il governo non vuole che si sappia. Non è una registrazione, è veramente il passato. Sì, hanno trovato un modo per ripiegare lo spazio su se stessi. Ricordi il build-out di qualche anno fa? Era al buio tutto il nord-est. Cioè voi? 50 milioni di case. Colpa mia. Cavolo. La chiave per fermare un disastro. Credi di sapere che succede? Non lo puoi immaginare. Sta nello svelare il mistero del déjà vu. Che faresti se dovessi rivelare la cosa più importante del mondo sapendo che non ti crederebbe nessuno? Ci proverei. Ci sono, ci sono! Non sei costretto a farlo? E se l'avessi già fatto? Déjà vu. Se credi che sia solo una sensazione, torna indietro e guarda.